Cerchiamo di capire un punto che è fondamentale, soprattutto perché voi avete finito i tre anni. Come vi sentite ad aver finito i tre anni? Mamma mia, vedete la faccia? Mamma mia. Sembra ieri, eravate così quando vi ho incontrato. Ok, allora, avete fatto un percorso, un percorso personale e un percorso professionale. Allora, cerchiamo di tirare un po' le somme di questo percorso per quanto riguarda un aspetto specifico. Vi ho chiesto che cosa, secondo voi, è fondamentale in un percorso evolutivo personale, che poi coincide anche con essere in grado di aiutare gli altri. Avete messo responsabilità di se stessi, consapevolezza, ascolto, accettazione, no giudizio o essere consapevoli dei giudizi, amore, presenza, allenabilità. Tutto questo dove porta? Qual è il fine ultimo di un percorso evolutivo? Cambiamento. Eh, cambiamento, ma cambiamento non dovreste fare nessun percorso, perché cambiamo spontaneamente ogni attimo della nostra vita. Quindi il fine ultimo non è il cambiamento. E conoscersi? Non è conoscersi, non è accettarsi, sono tutti strumentali. Il fine ultimo è questo, che poi coincide con lo star bene. Passare da questo, immaginate che il puntino al centro sia il nostro nucleo più vero, ok? E tutto questo, tutto quello che c'è intorno è una corazza che ci scherma dall'esterno, che ci scherma dalla vita. E spesso noi pensiamo che crescere, o meglio la maggior parte delle persone, cresce così. Cioè si allarga sostanzialmente. Ma questo spazio non è tanto importante quello tra la schermatura, l'armatura e l'interno. Non è quello importante. Il vero passaggio, tutto quello che avete detto, accettarsi, prendersi la responsabilità, amarsi, non giudicarsi, si serve a togliere spessore a questo, serve a passare da quello a questo. Quando parliamo di flessibilità, di che cosa parliamo alla fine? Ricordatevi che ogni essere umano, ogni essere vivente, togliete l'essere umano, ha due possibilità di interazione con l'ambiente. O protezione, questo, difesa, chiusura, perché se l'ambiente è una minaccia io mi devo proteggere, per proteggermi mi devo chiudere. Se voi avete un terreno, che volete proteggerlo, che dovete fare? Tirare su dei muri. Proteggere vuol dire chiudersi verso l'esterno. Sistema di difesa. Devo proteggermi, difendermi, chiudere. Questo. Dall'altro lato, invece, abbiamo il sistema di crescita, il sistema di vitalità, il sistema vitale, che non è un sistema di chiusura, ma è un sistema di apertura e di scambio. Non so se ne siete consapevoli, ma spero che in questo momento lo diventiate per insight, in un attimo. Tutte le volte che siete stati sereni, felici, chiamatele come volete, sappiamo che le emozioni ognuno le chiama come vuole, per forza di cose non ve lo chiedo, vi potrei dire è vero che eravate, no, ve lo dico, eravate in uno scambio aperto con l'ambiente. Ambiente vuol dire con un'altra persona, con il bosco, con la natura, con qualcosa di più grande di voi nella preghiera. Mettete da Dio fino all'apertura, alla visione di un fiore, ok? Che poi concidono Dio e un fiore, però lasciamo stare, nel senso che in ogni cosa, quando ci apriamo, ne cogliamo l'essenza, quindi non è tanto che cosa, a che cosa mi sto aprendo, ma è proprio il fatto che io mi apra l'importante. Mi seguite fin qua? Ok, quindi se tutte queste caratteristiche non hanno questo, non raggiungono questo obiettivo, non servono a nulla. È ovvio che se sono vere è impossibile che non raggiungano questo obiettivo, perché se io mi prendo la mia responsabilità non sono chiuso, perché vedo la mia parte, quindi mi apro agli altri e quando non vedo la mia responsabilità, che accuso, mi lamento, pretendo dalla vita e dagli altri, quindi là sono chiuso. Se io ho consapevolezza di me, mi devo aprire a che cosa? Almeno ho una visione diversa di me. Se mi accetto, sono già in apertura, non sono nella chiusura del non vado bene del giudizio, e infatti sotto c'è il non giudizio, che già è di per sé apertura. L'amore è questo, coincide. Amore e difesa, come vitalità e difesa, come felicità e chiusura. Come, arriviamo a qualcosa di più concreto, sorriso e chiusura non esiste. Non so se ci fate caso anche a questo, è bello arrivare proprio alle cose più piccole. Quando sorridiamo di gusto, notate che siamo aperti. Pensateci ora. Quando ridi senti proprio che sei aperto. Difficile che una persona sorrida proprio, sia col sorriso interiore, non sorridare così, sì, posso essere schiusissimo, anzi, se faccio il sorriso di circostanza. Ma se sorrido è proprio il segno che mi sto aprendo a qualcosa. Tant'è vero che molte volte, fate caso anche a questo, sorridiamo e poi subito ci ricomponiamo, perché arriva il pensiero che, oddio, che stai a fare? Cioè che sei in pericolo. Non so se sei là. Subito ti ricompone, tac, richiudiamo. Che cos'è questa apertura, questo scambio? È la famosa flessibilità. Andiamo un po' più a fondo. Tre anni fa io vi ho conosciuti e ho avuto una mia idea che non è chi siete, è la mia idea filtrata dai miei filtri su ognuno di voi. Man mano ho conosciuto delle parti di voi. Che vuol dire cercare in questi tre anni di darvi la possibilità? Perché dall'esterno noi possiamo avere solo delle possibilità e degli strumenti. Nessuno cambia nessuno. Questo vi è chiarissimo proprio? Ok. E nessuno salva nessuno. Perché spesso, oddio, che posso fare? È troppo rigida. Lei è rigidissima. Come posso? Che posso? No, non puoi fare niente. Rassegnati. Non puoi renderla più flessibile. Puoi interagire. E man mano che crei questa situazione con lei di scambio, lei può elaborare gli strumenti, i punti di vista, le emozioni che gli arrivano, gli esempi che arrivano. E da sola, piano piano, apre. E più lei diventa flessibile, più tu sei flessibile, più entrambi crescete. Ditemi se è chiaro fin qui. Ok. Che vuol dire, che vuol dire, un attimo solo, non voglio perdere il filo, che vuol dire diventare più flessibili? Vuol dire portare più armonia all'interno. E che vuol dire portare più armonia? Allora, prima facciamo un passo indietro. Perché se sono armonico, più armonico dentro, con minori conflitti, con minori fissità, sono più aperto? Perché sento, so, con un'intelligenza non razionale, ma veramente istintiva, superiore, non dico nemmeno istintiva, io la chiamerei davvero spirituale, perché quello è, con un'intelligenza molto più profonda, so che posso fronteggiare quello che arriva. Cioè, io mi chiudo, questo è un passaggio fondamentale, davvero ditemi se riesco a trasmettervelo, io mi chiudo perché ho paura di una sola cosa, della sofferenza. Non mi chiudo per, come diceva, no, perché ho vergogna, perché la vergogna, la paura, la rabbia, la tristezza, nascondono tutte una radice comune, paura di soffrire. Hai vergogna, che vuol dire? Che hai paura di esporti al giudizio degli altri, uguale paura di soffrire. Io mi sento impacciato nelle relazioni, quindi non mi ci butto. Perché eviti le relazioni? Perché hai paura che essendo impacciato, combini casini e soffri. E potete prendere tutto, sono triste quando gli altri non mi cercano. quindi mi chiudo alle relazioni. Perché ti chiudi? Per evitare quella tristezza. La radice comune è sempre la paura della sofferenza. Quando invece davvero porto armonia dentro, e ora vi spiego che intendo per armonia, non ho più paura della sofferenza. Ditemi, se è chiaro quest'altro passaggio, sto cercando di darvi proprio punto per punto. Non è che scompare la sofferenza. Addirittura, quando non ne ho paura, sapete che succede? Che il nostro sé più profondo, il nostro sé più vero, sa bene che la sofferenza è parte della vita. Cioè, un sé maturo, spiritualmente maturo, dice, la sofferenza è parte della vita, e io so affrontarla, la affronto come posso, cerco di crescere, a volte sarò nello sconforto, e va bene così. Questa è la vera accettazione. Quindi, no, non ne ho paura, vuol dire che mi sento Superman. Non è, la sofferenza non esiste, sono cresciuto, sono un uomo duro, forte, e fronteggerò bene ogni cosa che arriverà, perché sono io più forte della vita e di chiunque altro. Sono l'unico in grado di affrontare. No, quello è l'ego, quella è la maschera, meglio. Ci travestiamo spesso da forti per non vedere che invece nella sofferenza, ahimè, è brutto da dire, lo so che mi sembra assurdo quello che sto dicendo, ma nella sofferenza soffriamo. Si soffre, lo so. È una cosa che dice, ma guarda, non l'avrei mai detto. Eppure, ragazzi, è così. Però si soffre se riusciamo a dare senso, perché noi diamo senso alla vita, la vita contiene sofferenza, se riusciamo a dare senso, direzione a quella sofferenza, allora non abbiamo paura di essere nello scambio con l'ambiente. E questo scambio vuol dire che entrerà qualcosa che ci farà soffrire, usciranno cose che faranno soffrire gli altri, entreranno cose che ci daranno amore e crescita, uscirà tanto amore e tanta crescita, e così entrerà e uscirà di tutto in uno scambio il più pulito possibile con l'ambiente. E così la vitalità aumenta. E così la vitalità aumenta.